Per te! Attento! Cos'è stato? Invecchiata! Invecchiata! Occhio! Occhio! Arrivano! Ma che succede? Andate via! Mi hanno preso dappertutto! Ti hanno concesso per bene! Questi uccelli sono pazzi! Che schifo! Mi hanno colpito! Sto sanguinando! Negativo! Appuzzi come una crozza velosa in un bagno adulto! Andate via! Niente panico! Ora ti libero! Resisti, amico mio! Resisti! È troppo pesante! Segnete subito dal ghiaccio! Che scena patetica, non ti pare? Ah, aiutare o non aiutare? Se vogliamo un po' di pace, dobbiamo aiutare! Si va al circa! C'è mancato poco! Questo era il piano? Era una missione suicida! Perché è nell'altro tempo! Questo era il piano è una cosa!